Che puttana! Ciò che ho dovuto creare per appunto avere questo fascio di luce solo verso di me che rende tutto il resto veramente buio, quindi per creare questo effetto ecco qui come ho dovuto impostare il tutto, ho creato una struttura di cartoncino per mantenere al buio, più al buio possibile la lampalina utilizzando poi una sharp perché non mi ha venuto un'idea migliore quindi mi sono voluto accontentare di questo. Allora, allora, hey allora, io guardo ogni tanto con la telecamera piuttosto che questa quindi potrebbe esserci questo cambio, avviamo il gioco. Casa dolce casa o casa degli errori ovviamente, casa degli errori, inutile dirlo, poi facciamo anche casa infernalissima, non è un problema. Però non mi piace la qualità di questa videocamera, questa la playstation camera, non mi piace. Ehi, ciao! La luce è bassina, la devo alzare. E poi parla. Sì? Eh, anche tu. Vai! Io ho paura. Che è? Che c'è? Eh, dimmi. Io sono Ethan. Sì, è vero. Ti ho merito. Non avrei dovuto, ma... Cosa hai fatto? Troia! Posso dire che... Sì, troverai qua. Stanne... Lontana. Cioè... Scusa, tu con la scusa del babysitting... Hai... Chissà cosa hai fatto? E ora mi dici, stanne lontano. Non si fa così. Non si fa così. Sì, sì, adesso aggiusto la voce dei personaggi. Sto facendo... S'introduzione obbligatoria. Ragazzi, morirai male. E' bello. Non lo so, ma se invece fosse davvero lento. Voglio scoprire qualcosa in giro. E' giusto. E' giusto. Posso... Ah, ok. Cominciò. Però vedo che c'è un leggero ritardo nel movimento della visuale, già. Non mi piace questa cosa. Cioè... Se devo giocare, giro e gira. Non giro e c'è il ritardo. Vediamo se nelle impostazioni questa cosa che si può cambiare. Mi auguro di sì, perché mi dà veramente fastidio. Ma quanto dura la life? È appena cominciata, durerà almeno un'ora, mi auguro. Se non muoio prima. Uh, trofeo lagnato. È ancora viva. Cosa ho fatto? Non ho fatto un cazzo. Ok. Hai avuto il coraggio di avviare il gioco? Forse allora aspettiamo un attimo. Ok, meglio. Allora, questa è la nostra bellissima macchina. Che vediamo. Sembra essere bene come macchina. Vediamo, dietro non posso andare. Tasti. Non salto. Non salto. Ok. Ok. Va bene. Ok. Trova mia. Obiettivo. Ah, quindi Y sarebbe il meno. B non lo so cosa fa. Ah, ok. Possiamo scacciare le mosche. Possiamo scacciare le mosche. Cominciamo bene. Beh, devo dire, è fatta veramente abbastanza bene. Oddio, è un po'... No, qui le piante si sono fatte alla cazzo. Ho detto una cavolata. Cioè, sembra bellissimo. Freccia giù, guarda il tuo obiettivo. Dov'è il mio obiettivo? Trova mia. Y un chilo di nuovo. E quindi non ho un cazzo da fare. Perché mi diceva freccetta giù per vedere l'obiettivo. Poi sto coso rosso. Cioè, ci mancava soltanto questo. Allora. Allora. Ok, effettivamente è fatta bene. Solo le piante sono fatte una merda. Questo immagino che non si... Immagino che non si aprirà. Sì, però molla sensibilità troppo bassa. Mi devo regolare un attimo questa sensibilità. Vabbè. Sono più cortesi di Bloodborne. Allora, io vengo da qui, dal sentiero. Da qui non posso andare. Direi che devo andare da qui. Sento rumori sottofondo che mi fanno paura. Ma immagino che ancora non ci saranno jumpscare o cazzate varie. Spero. Mi auguro. Piuttosto vorrei sapere se la mia voce si sente bene. Perché sto utilizzando... Ma io ho la macchina. Credo di essere venuto dall'altro lato. Ah, ok. Ho sbagliato. Credevo di aver seguito il sentiero. Invece no. Sono venuto dalla parte brutta. Sì, riconosco la pozza. È nera come prima. E io... Io non mi rifletto nell'acqua. Non mi vedo i piedi. Ok, i piedi ora come li vedo. Più o meno. Posso vedere da come cammina il personaggio che è alle gambe a papera. Cammina con i piedi verso fuori tipo lupen. E le tre corri. Quindi le tre questo. Perché devo correre? Mamma mia, cioè... Sta di sole lentissima mi fa cacare sotto. Allora, qui abbiamo... Cazzo, sento rumori ovunque. Abbiamo un van. Un van con i pornazzi dentro. Seward Gators. Episodio 17. Proposta di un progetto. Introdursi in una casa infestata in Louisiana. Eh, facciamolo. Accetta il suo dono. Il suo dono di lei. Quindi femmina. Mi sta dicendo che tu venivi qui a dare doni alla gente. Britta lorda. Gli avevo chiesto se sente bene la mia voce. Se sente bene tutto l'audio in generale. Se poteste farmi sapere qua non c'era niente, vero? Non c'era niente. Così, in caso regolo. Al massimo cambio microfono per... Per la voce. Ho visto un tizio. Ho visto un tizio. Qui sembra una palude normale. Tipo quella da... La quale spuntarando per distruggere l'aereo. Uccellaccio. Ciao uccellaccio. Ok. Uccellacci. Oh! Cominciamo bene. Se mi spettano degli uccelli. Ok. Un attimo. Vediamo un attimo i commenti qua. Sente bene tutto? Perfetto. Grazie mille. Grazie mille. Mi sono già caccato tutto. Qui abbiamo delle... Cosa sono? Cosa sono? Delle zampe di animale. Questa è la classica entrata. Questo era il treno. Non so se si sente. Questa qui è la classica. La classica entrata che la gente fa in queste case così rustiche, no? R3 accovacciati. Ah, ecco come ci si abbassava. Odio abbassarmi con R3. Cioè, avete già cominciato? Sì, mi sono spaventato per i corvi. Perché io ho il volume in cuffia, no? Che mi fa... Cioè, è fortissimo. Quindi tutti i suoni li sento molto più alti rispetto a quello che si sente in live. Corvi morti. Così almeno non mi fanno il jumpscare. Ok, una cisterna dell'acqua. Un caminetto del fumo. Sono ancora in tempo per girarmi, prendere la macchina e andarmene. Forza e coraggio, dai. Vai. Una borsa. La borsa di mia, vuoi vedere? Dici gioco le palle. LR, esamina in dettaglio. E patente di guida. E lo sapevo io che era la sua borsa. Trofeo adegnato. Eureka! Yay! Non mi interessa il trofeo adesso. Inventario. Che devo fa? Devo controllarla? È coperta da una strana sostanza nerastra. Quindi tanto mi blocco a leggere i commenti. Ho paura. Ho paura. Un dondolo! Vai! Posso? Oh! Figata! Hanno fatto il dondolo interattivo. Però io non posso sedermici. Vieni qui dondolo! Ok, basta perdere tempo. Sto cercando di prendere tempo per non andare nella casa. Perché già queste barricate mi fanno già paura. Ve lo dico sinceramente. Mi sto già cacando sotto. Questo cos'è? Un bug? Sì, un piccolo bug dell'effetto. Qua è tutto nero. Non ho una torcia, non ho niente. Io dico che schiatta per lo spavento. Aiuto. 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 Oh cazzo! Oh! 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 Abbiamo una luce. Da qualche parte. Come si attiva la luce? La torcia. Come l'hai attivata? L'hai fatta tutto da solo? Pezzo di merda. Non me le insegna a me queste cose come accendere la torcia, no? Eh? Cos'è? Ok. Quindi tutto quello che posso fare per adesso è... Ok. Apri, vai. Non ho paura. Non ho paura. Non ho paura! Salvataggio. Perché c'è il salvataggio? Scegli un oggetto da usare. Niente. Non ho niente. Non posso usare niente. Ok. Sento rumori. Sento... Diversi. Ah, è l'acqua. È l'acqua. C'è l'acqua che... Eh dai, avete lasciato l'acqua aperta. Ragazzi. Ci sono i bambini in Africa che muoiono di fame. Voi lasciate l'acqua aperta? Un microonde. Vediamo se posso trovare del cibo per me. Ricchidi. Non ho paura. Non ho paura. Mamma mia, quanti suoni che ti mertono. Quanti suoni. Quanti suoni che ti mertono. Ma... Che cos'è qua? La donna delle pulizie. Avrà paura. Non posso esaminare? No, niente. Ma quanti suoni... Ok. Ignoriamo i suoni. Si è spenta la videocamera pure in tutto questo. Meno male che ho l'altro video. Bella. Sta cosa brutta perché sicuramente sbatterò da qualche parte. Perché mi vibra pure il controllo? Smettila. Cazzo! Aiuto. Una scapola. Ah, niente. Beh. Sopra o sotto? Sento un tic-tac. Sento un tic-tac. Tic-tac. Apriamo qua. Non c'è niente. Allora, da sotto... Oh, 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 oh. Ho da sopra. Non lo so, vado tutte e due paurissima. Però da sopra vedo un coso rosso. Quindi forse c'è qualcosa. È spento. Non funziona. Ovvio. Il solito culo. Uh, ecco. Carichiamo la batteria del telefono. Da che ci siamo. Ah, è per salvare. Firmato casa abbandonata. Abbandonata. Questo è per salvare, quindi. Ok, sto salvando. Nuovi dati. Sì. Salvataggio in corso. Attendere, prego. Ok, quindi non si va di sopra. Ovviamente la strada di sotto, che è quella che più mi ha fatto paura, è la strada per andare avanti. Andiamo. Ok, un altro video. Allora, una porta. Oppure un... Niente. Dei chiodi enormi. Ok, niente. Ho sentito una botta forte. Qua è chiusa, non mi fa fare niente. E com'è? Ah, basta spingere la porta per aprirla. Quindi forse anche questa. Uh, si è aperta. Si è aperta. Si è aperta. Una foto. Cadavero. Vediamo un po'. Mamma mia, si suoni. Un'altra foto. Mezza vagina. E non c'è niente, non c'è una data dietro. Uh, posso attivare... No, mi manca un fusibile per attivare la corrente. Credo sia un fusibile. Un piano, ho paura a suonarlo. No, no. Non lo potevo suonare. Eh, lo sapevo che finiva così. È fatto apposta. TV. 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 Questo? Un'altra foto. Una prigione. Niente. Là c'è la foto di prima. TV. TV. Ah, posso interagire? Ah, meno male che hanno il videoregistratore. Se no non avrei potuto vedere questo video. Errore tecnico. Che cos'è? Clevis Abandoned House. Che doveva? Vai. Guardiamoci il film. Ma dove l'hai trovato? Taccio un taglio, Peter. Ehi. Lavoro coi professionisti. A proposito. Controlla che l'audio funzioni. Non voglio un nuovo marito. Mi devo muovere io. Ma è una storia di due anni fa. E non mi doppio. Uh, uh. Dove andate senza di me? Venite qui. Quello nuovo? Non mi piace. Non ti stupire se dovremo rimpiazzarlo. Cioè, sono così teso che mi prude tutta la faccia. Piano B. Cosa? Apriamo. Filmiamo l'interno. Ok. E poi parte l'entro. Ok. Quindi, preparateli. Però, prendiamo il programma stavolta. Tranquillo. Stasera a Sewer Gators, un altro posto del cazzo è inutile. Delizioso. Deliziato. Aiuto. Vai, prego. Apritemi la strada. Dai, siete lenti, però. Siamo pronti? Cominciamo. Diciamo che siamo pronti. Non mi sento a mio agio, però. E mettici un po' di forza. Proprio. È chiusa. No, no, è aperta. Risolto. Come dire... Che devo fare io? Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? Uh, è stregata? Che cazzo! Era un presentatore? Si sarà accorto che è la stessa casa? Sì, me ne sono accorto. Cazzo. Quindi io sto giocando la stessa cosa che ho giocato prima. Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa, è forse un delitto. Il solito. Da quanto hai detto che è abbandonato? Tre anni. Siamo prechiusi. Oggetti? Uh, oggetti. Cos'è? I Baker non dei contadino. Jack e Marguerite Baker. Hai capito? Gente tranquilla, non arretrata. Girano brutte voci sul figlio, Lucas. La pecora nera. Sempre lì siamo, più o meno. Non è che si è cambiato nera. Ma la merda! Che è successo? Sapevo di dovermi mettere le altre. Che è pestato la merda? Dov'è? 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 Non lo vedo. Ma poi io non ho una torcia, studi. Cioè, ce l'ho mai. È scarsissima. Qui? Qui non c'era niente prima. Cioè, è la roba pulita che è successo tanto tempo qua allora. No. Qua sempre la stessa merda. Uè? Uè? Andre? Era con te. Che ne so io. Non so se sto trovando per il brividio o per la paura. Non lavorerò mai più con lui. Scusa, vado a vedere di sopra cosa c'è. La fine i produttori vanno e vengono. Ha un buon cameraman come te? Non vedo niente di sopra. Resta vicino. Sì, resta vicino. Non c'è il salvatore. Ok. Resta vicino, non si vede niente. Uffa, mi crude tutta la faccia. Sono molto nervoso. Qui c'è qualcosa? Niente. Ehi, ciao. Allora. Come va? Cos'è stato? Sentito? Siamo ancora in tempo per andarcene. Pensaci bene a quello che vuoi fare. Andre? Ok. Pausa un secondo. Mi devo mettere la felpa perché sto morendo di freddo. Andre, dove sei? Eh, Andre dove sei? Vai. Vai. Io ti seguo. Qui mancava sempre il terzo coso. Danger. Ah, scale. E' il terzo coso. Oh, dove vai? Posso suonare questo giro il piano? No, non è il momento. Una bella serenata. Cos'è? Che cavolo! E' da fammi vedere la cosa. E' un cazzo di scherzo. Sì. Facciamo. Troviamo Andre e poi ce ne andiamo. Fanculo lo sci. Può essere, può essere. Non sono sicuro, però può essere. Oh, dov'è? Ok. Tu come vedi un buco, subito che ti cibuzzi, eh? Allora. C'è una scala che scende. Che dà giù. Vieni. Dai. Vai, ti seguo. Prima tu. Riprendimi tipo eroe mentre scendo. Proprio tipo eroe, guarda. Vai tu. Verrà sicuramente qualcosa di... Beh, grazie, grazie, grazie mille. Quindi, per interagire con le cose c'è bisogno soltanto che io mi nuova verso di loro. Non c'è bisogno che io... Prema alcun tasto per ora. Che cosa vedi? Vieni, eroe. Che cos'è? Vieni giù. Vedo te, non mi sono ancora girato. Vieni giù. Hai detto che scendevo io e poi scendevi tu. Pezzo di merda. Questo non si chiama fare l'errore. Ehi! E' Andre! Andiamo. Andiamo, Andre. Andiamo. Sono sicuro che se ti tocco succede qualcosa di buono. Toto. Ovviamente fa da sole. Buona. Era buona. Se l'ha messo a ciucciare dal tuo... C'era un liquido alla favola, come possiamo vedere dalla tua faccia. E se l'è ciucciato tutto. Ok. Bella videocassetta. Molto interessante. Però se tu urli, cazzo, mi fai ancora più paura. Quindi, oltre a questo cristal, che hai saputo dire, abbiamo scoperto che qui c'è una cosa. Una leva. Che apre la porta dietro di me. Però, ho una domanda. Se apri questa porta, cosa c'era nell'altra porta? Perché io ho aperto questa qui laterale, non ho aperto quella frontale. Forse è chiusa. Infatti. Perfetto. Quindi possiamo proseguire da qui tranquillamente. Io sento i rumori che mi fanno paura. A sinistra sempre niente. Un bordello di scritte. E qui sempre... Chissà quanto tempo è passato rispetto a lui. Cioè, rispetto a quando c'erano loro. Ehi, andiamo. Andiamo a trovare André 2.0. Che cazzo di mano? Oh! Sono i rumori che fanno paura. Non è il gioco. Era una scala che si rompeva. Questa non fa paura. È il gioco. Cioè, sono i rumori. Qui c'era André. Si è finito tutto... Si è finito tutte le fragole, il pezzo di merda. Guarda qua. Non ce ne è più nemmeno un po'. Ne volevo anch'io se le mangiate tutte. Questa è una parte nuova. Una parte nuova. Questa è la cosa più interessante che possiamo fare. Ci facciamo il bagnato. Io ho paura dei coccodrilli. Ho paura che qua abbia un coccodrillo. Posso andare sull'acqua? Non posso andare sull'acqua. Cocodrilli? Spero di no. Odio. Cioè, quando si muove da solo e non ho più il controllo, io ho paura. Ok. Scade acqua. Tutto ok, tutto ok, tutto ok, tutto ok, tutto ok, tutto ok. I coccodrilli no. No, voglio vero, ho paura veramente quando sono in acqua. Coccodrilli, squagli, queste cose qua, mi fanno cacare sotto. Vai, ripassa. Eri tu che scorreggiavi, non erano i coccodrilli. Ok. E fai mi passare, cazzo. Coglione. Insomma, pochino spaventare, ma solo per le bolle d'aria, perché c'era puzza di scorreggio. Sono solo un pochettino. Ah, ma ho la mano sporca. Ho le mani viscide e sporche, che schifo. Un sacchetto della spazzatura. Una cella. Credo inaccessibile ancora. Ma sti cazzo di suoni. Chi è che fa questi suoni? Chi è che fa questi suoni? La gente dorme, non dovete farle. Allora, qui c'è scritto Papino, papino, sporco, dispiaciuto. Non sarò più cattivo, papino. Ah, ok, ho tutto un pochettino. Papino, mi dispiace, non sarò più cattivo. Uè, luce. Jump scare in 3, 2, 1, via. Mmm, ma sticca, ma perché? Allora, fammi capire il concetto. Allora, hai davanti una cazzo di cella. Non c'è bisogno che ti ci butti con la faccia per fare un bordello della Madonna per aprirla. Non è che si apre così, serve la chiave. Serve qualcosa per aprirla. Non è che si apre così. E poi sto bordello che cacchera sotto a me funziona, non era qualcosa. Mi fai solo innervosire, porca Eva. Una lettera, no, che cos'è? Ben, morto. Hero, trasformato. Trasformato, trasformato, morto. Clancy, non si sa. È un... non si sa. Mia, non c'è niente ancora. Va bene, quindi Clancy e Mia. Dobbiamo fare attenzione a questi due. Una ceso... una e 9, le tronche, sino non c'è soia. La cesoia è quella per le piante. Ma qui cosa c'è? No, ok. Forse con la cesoia devo aprire là. Mia! Ci penso io, oddio. Ma la butti, la cesoia, che fai? Te la tieni, te la tieni, vai. Ma siamo come altri. Cartigeni, cazzo, zona. Che fai cacchini questi... Ok, non lo voglio sapere. Fammi vedere. No, 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 non lo voglio più sapere. Ma devi avere un buco sul pavimento. Vabbè. Ciao, mio. Tesoro? Amore. Boggiarda di merda. È fortuna sei viva. Sono io, sono Ethan. Ethan? Ethan! Ehi, stai bene? Ethan! Tu non dovresti essere qui. Ma manco tu, cogliona. Che cazzo ci fai qua? No, non sono stata io. Oh, che cosa è successo, forse? Qualcuno ti ha visto entrare. Lui ti ha visto. Lui? Ma c'è qualcun altro. Che diavolo succede? Sta arrivando papà. Dobbiamo andarcene. Papà! Dobbiamo andarcene adesso. Ma ti pare la situazione per presentarmi ai tuoi genitori? Credo di aver letto mezzo commento spoiler, però non l'ho capito e non lo voglio capire. Dove mi porti? In un posto sicuro. Vuoi dire cosa sta succedendo? E ti ho creduta morta per tre anni. Tre anni. Lo sapevo! Lo sapevo che diceva tre anni. Quello che dici? Sì, sono sicuro. Mi ricordo, erai lontano, 2014, quando abbiamo andato quel video. L'ultimo video in cui ti ho visto. Che ti guardi? Ma vai, ma vai, fammi passare. Non scherzavo, vai tu, vai tu, vai tu. Vai, ti seguo, tranquilla. Che ti hanno fatto? Non, adesso. Dobbiamo trovare una vita. Posso fare il sucra, sucra? Sucra, 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 sucra. Posso fare da questa parte? C'è tempo se vuoi. Ce la possiamo fare? Prima che arrivi il tuo padre? Madonna, con le cammini comunque sembrano zombie, eh? Non è tutta quanta... Molto, molto. Mia, noi dobbiamo parlare. Il messaggio che mi aveva dato, Mia! Quello non ero io! Ma l'hai fatto! Non sono stata io! Ok, d'accordo, ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giù. Ok. Dobbiamo andare di qua. Andiamo, vai. Ti seguo. Uh, tuo padre adora pescare. Ahah, dove vai? Non mi lasciare indietro, ho paura. Sai dove stiamo andando? Non so se scasta si delle vattime. Sì, non ricordo. Ah, maledette. Oh, che c... Ah, ok. Vai, un po' come in outlast. Posso... Ah, ok. Non ho capito bene come si avanzava, ma... Dove sei? Dove cazzo? Ma poi scusa, senza torcia, come fai ad andare avanti? È proprio lì. È proprio lì. Andiamo. È questa. È questa. Si gira. Non muove le labbra e farla, dai. Tu non me la racconti giusta, eh. Mi ricordo la stanza. Io ho i brividi e questa volta non è il freddo. Non sono sicura. Questo funziona. Ci vogliono dare una lavata. Perché prima ho camminato nella fogna, mi sono sporcato le mani. Posso? Spare dalla porta. Saremo una famiglia. Ma sei sicura che è sparita? Sono sicura che ci sia un'altra porta. Ma io la vedo la porta. Cioè, c'è la porta, guarda. È qui. È davanti a te. È chiusa, però. Dobbiamo dare una... Vai. Dai le botte come le hai date prima alla sbarra. Fai il bordo. Rompi sta porta. E001. Sarà esperimento 001? È una vecchia. Una vecchia... Vabbè, tu riposti, cosa fai? È qui... Mia Spera con qualcos'altro Eh giustamente Tu non devi fare il galante Il cavaliere che vai tu avanti Tu devi mandare lei avanti Una bambola E' mia Una mia L'ho rifatta abbastanza bene devo dire C'ho pure i tacchi guarda Fammi finire di esplorare Poi Vendo C'era un'altra mia attuale Non è mia questa E' mia E' mia E' piccolina Vabbè ho esplorato abbastanza Dicevamo Ehm Ehm Ho paura perché non vedo niente Benvenuto in questo soggiorno di morte e paura Vai richiuditi la portata Ah presto Richiudi non vuoi Ok Posso provare a chiamare la polizia? No Non posso Salve mi scusi La mia ragazza è sparita Mia moglie Non la mia ragazza Yey Mappa della casa Degli ospiti Mappa casa ospiti Vabbè Mappa casa ospiti Una toilette Con Soluzione medica Mi sa che fra poco si combatte Soluzione medica Qua apro Non apro Ho sentito una botta E mi nascondo della base Sì chi è? Pronto? Sì Il rumore viene da destra Sì? No non vengo ad aprire Smettila Lasciami stare Aiuto Una porta È chiusa Prendi questa Prendi Usa quest'arma Posso usarla Usa oggetto Non posso usarla Eh Ragazzi vedo questa Tanto un sacco Ma Visto che lo vedo Per un momento Che tipo Evito di Io mi metto un attimo A posto Che se saltavo Dalla posizione Come ero poco fa Sicuramente morivo Aiuto Vai Sento Di sapere della piangere Si muove da solo Non faccio niente Ciao mia Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Che dobbiamo fare la raccoglie Posso fare qualcosa Posso fare qualcosa Perché altrimenti Cioè Entri che mi spavano Beh Sei bellissimo Come il primo giorno In cui ti ho visto Come quando R2 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 Che cosa Mi hanno fatto Mata lorda di merda Che ammazza Una famiglia Che cazzo fare Cazzo mi vuoi già fare Premier R2 Se poi mi racconti La loro stessa Riesco Io riesco Sì Ma diamo la colpa Alla bene Sì Sì Brutta Tu non me la racconti Proprio giusto Stai facendo una messa In scena Che cosa hai fatto Che cosa hai fatto Che non hai anche Il coraggio di dirla A cuffia Qua con sto cavo pure Che ti hanno fatto Mia Che ti hanno fatto Mia R1 Cioè Ho un buco Nella mano Ci butto sopra Un po' di soluzione Medica Il buco Si è rimarginato Dimmi Che cos'è Quella roba Dov'è il coltello Dov'è il coltello Era qui Un attimo fa Vuole un'arma Non posso averla Va bene Andiamo Troia Sì Vabbè Vabbè Aiuto 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 Cosa posso fare Ah ok Un'arma R2 attacca Oh cazzo Oh Oh Fangu Ti ammazzo La fangu Ti ammazzo Acqua mamma Anche a tuo palco Ovviamente Ah Fangu Quatt'è che è un muro Vittra di me Ah Amore Cazzo Mamma mia Che nervoso Che sangue che si sparge Come l'hanno fatto brutto L'effetto del sangue che si sparge E leggere Uh squida il telefono Un attimo Perché avevo un'altra impostazione sul sangue Vorrei vedere Vabbè Lascia Te la puoi riprendere Almeno Cazzo Immagino che non si curi da solo Lo scemo Quindi devo cercare io Un'altra Vabbè Ho capito La ferita ce l'ho in testa Mi posso Mi sciacco la mano E sto Beh Ho capito Sto venendo a rispondere Chi è No È dall'altro lato Ma poi qui c'era una senza segreta Vabbè Arrivo 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 Questi sono quelli Della telecom Che cercano sempre mia mano Sì pronto? Non sarei più dovuto venire qui Chi sei? E che cazzo succede? Mi chiamo Zoe Forse puoi uscire dall'altro No ti chiami Zoe Non Zoe Ampara a leggere il tuo nome Zoe Zoe si scrive Z-O Tu sei Zoe Si scrive Zoe Oh 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 Io non scherzo più Con voi Però se fate così Devo avviare un attimo L'altro video Prendilo più seriamente il gioco Non come un comico Allora Se io il gioco lo prendo più seriamente Muoio Cioè se io mi metto lì Ok ok Ho paura Ho paura Muoio Letteralmente Muoio Quindi cerco di prenderla a ridere Cerco di non spaventarmi troppo Perché altrimenti Ce la faccio ad arrivare alla fine Poi Si è aperta qui Lo sapevo Queste Chiavi magnetiche Io non ho armi Non ho niente Comunque sì Anche se rido nel gioco Cosa che magari può capitare Ah questa qui è la zona di prima Dicevo Cosa che può capitare che io faccia Perché provo a buttarla da lì A ridere una cosa Ogni tanto Non vuol dire che non mi stia cacando sotto Perché veramente C'ho la tensione ragazzi Non a mille Uh si è accesa la luce Ora posso caricare il telefono Però prima salviamo Ah controlla dov'era mia Ok Io me ne stavo andando per i fatti miei Però potrebbe essere un consiglio utile Però aspetta Controlla dov'era mia Nel senso dove l'ho trovata Dove è morta Vabbè facciamoci una corsa Un attimo Corsa Sta camminando E dai corri Ah questa ora si ha Ah no era il bagno di prima Si aprì anche prima Controlla dov'era mia Ehi mia Dov'è mia Meno male che mi avete detto Non mi era venuto in mente Di tornare un attimo indietro Non è che c'è qualche altro segreto Che devo sapere No? Non è vero Spero di no Ok Qua è chiuso Perfetto Abbiamo un'arma Sono contento Abbiamo un'arma Tanto un'ascia Non ho paura adesso Non ho più paura adesso Ehi Proviamo Ah aspetta Si mette la luce rossa qui sotto Sembra ancora più cauroso Ma quella era mia Ui 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 Ma io t'ho ammazzata poco fa Dove cazzo? Io vado da sopra Solo perché devo andare da sopra Comunque la corsa Non è corsa Ci tengo a specificarlo Ah no Il fusibile si mette da sotto Era da qui? No non era da qui Però qui non Non ho Ok forse adesso devo cominciare a prenderla un po' più sul serio La situazione Sento suoni Sento tanti suoni Io corro Che puttana Levo il cazzo di cacciavite Dai No levo il cazzo di cacciavite Porca puttana se non lo cacci Porca puttana Ma non ce la fai Ah devo tenere premuto Ah voglio averci provato O NONO TROPP PO LENTO TROPPO LENTO Posso fare qualcosa o lo devo immuogliare? Sono senza un braccio Usano adesso il medikit stronzo Mi ha tagliato un braccio Mi ha tagliato Oddio No una mano Mi ha tagliato una mano Non un braccio Oddio Ma almeno le armi Posso Ecco Fanculo il braccio tagliato Metti l'ascia Pure il cacciavite sarebbe andato bene Lube Ah eccolo qua Non so se salvare Sì credo sia una parte del gioco Il braccio tagliato Quindi Ah Ok salvo di nuovo Già il terzo salvataggio Solo nella prima parte No 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 Non voglio leggere per favore Non mi spoilerate nulla Perché io sono sicuro Che tanto pure la mano Non si rigenera con la soluzione acquatica La soluzione salvatica O quello che è Soluzione rigenerabile Uno o due Che porta scegliamo? Direi prima questa Ah giusto Ora non hai più la mano per aprire la porta Coglione Così impari a fare tutto sto bordello Sigarette No munizioni pistola Meglio delle sigarette Pistola Dai eh Ok Perfetto Ok Perfetto Soluzione medica Al momento però non sono rosso Sinceramente Le due mire R2 attacca Anche se Preferirei per adesso utilizzare ancora l'ascia Perché ho solo 12 colpi di pistola E penso di poter continuare ancora un po' solo con questa Andiamo un po' Altre Ho avuto paura Altre munizioni? Me ne stanno dando un po' troppe munizioni pistola Tanto nel peggiore dei casi muoio e penso potrò ricaricare il salvataggio Posso distruggere i cosi Ok Molto interattivo questo gioco Non lo sapevo Mi sono autospaventato Allora posso salire E andare Cosa cazzo ho fatto? Cambiarla Metti la pistola subito Subito Tutta la Oh merda Provai la testa Provai la testa E che cazzo Si tratta di caricare Morty 40 No Bene Certamente blocca Vabbè Adorme Sì No Uh 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 Tu sono Bordeaux o devo dire che tu me la sono in giocatamani? Ok, se stanno facendo fuori perché è un giocatamani Cioè tu ancora eri vivo per dire Sei morto Poi mi sa che la devo sfondare di botte sta scema Che non muore fra l'altro Dammi la terra, dammi la terra Ah, è troppo lento però Sono troppo lento io, non so poco ce l'hai, sono troppo lento io Vuoi capire Eh dai, vai giù Oh, ricarica, 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 ricarica Ti amo Anch'io no, io no Prendi la motosega Perché non posso prendere la motosega come la Roma? Ma pensavo fosse già in piedi Ho visto sto piede così L'ho flashata già in piedi Brutto, brutta, 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 bastardi Di me È questo? L'ho fatto che era sotto tantissimo Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo proprio Forza, non morire proprio ora Hai del lavoro da fare Questo rumore non mi è piaciuto Ah, spillatrice, proprio rapida Ehi papà Devo cominciare a chiamarlo papà adesso Dove? No ragazzi, però gli spoiler no Uh, una cena di famiglia Ah, proprio Dov'è mia? Ah E sono sicuro sì Eh sì, hai ragione Ah Ah Non mangio, c'è che non mangio Non mangio Ti fai la cazzo di bocca Mazzina su per noi Mazzina su per noi Sei un figlio di puntata Incredibile Tu figlio di sultana Non mangio, non mangio 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 Mi sento senza lingua Ma andiamo Maledizione Non mangio Non mangio Maiali No Ah Devo chiedere la batteria Ok Perfetto Oh, giusto, eravamo a cena Eravamo a cena Ma la vecchia qua è morta È troppo scuro, non si capisce Ho di nuovo la mano Ho anche un orologio digitale di quelli di high tech Tecnologia fantastica, altissima Questa era la cena Che ho apprezzato La signora purtroppo non ha capito cosa intendessi dire Ma chi è che fa il bordello? Boh E' un po' Sega corda, collare cane 20 collari del cane 4 corde e una sega Non ho capito a cosa ti serve La vecchia qua sembra che mi guardi Ah mi guardo, ok Non Siete su dietro cosa fai? Ah giri la testa insieme a me Va bene, va bene, nessun problema Problema E allora In frigo c'è la roba buona stavolta Sì, hanno cambiato residenza a pare Perché hanno sempre la stessa merda In frigo Però Ah, queste sono le preparazioni Sutta di donna Grigliata di uomo robusto Ok, ok Giusto tenersi alimentati correttamente Perché se no Eh, se no Sennò che schifo Oggetti Mi hanno fatto Uh, un orologio Ve l'ho detto che è un orologio Aitecchissimo Proprio Bellissimo questo Mamma mia Fantastico Mi rileva anche le pulsazioni del cuore Che sono sempre le stesse due pulsazioni che vanno Ebbene Cioè, due pulsazioni C'ho Due E basta Quale due sono? Va bene Qualcosa mi dice che Si va di qua Vero? Uno stivale Evelyn Ciao Evelyn Certo che avevo il piedone Per essere una donna Vabbè no Evelyn è un nome da donna Io poi non so se tu sei una donna Là sicuramente ci caso Ma prima di andare di là Scusami tanto Loro sono andati via da questo lato Cioè Non è che li incastro nelle porte E nelle cuffie pure Ah, posso andarci anch'io Cazzo Ho due lati adesso Ah, sì Quello effettivamente aiuta a scalare Le ex scale Ora non so bene dove andare Però Scegliere l'oggetto da usare No Ah, ok Cosa chiave Devo usare una chiave Non neanche più la torcia Garage Sembra facile Fagile Fragile Potresti usare qualcosa per romperlo E usa la testa Garage Ok Non c'è di niente Non si dà quasi nulla qui Cioè Addirittura Un nastro adesivo Così tenace Che con le mani Non viene via Wow Cioè Ditemi dove l'avete comprato Quello che sognano tutti i carrozzieri Ah Questa è la stessa porta Ok Ci so dall'altro lato Eh, papà Senti Una domanda No, no, no Dovevo chiederti Pensavi di potertene andare No, 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 no Non volevo Non volevo andare da nessuna parte Stavo scherzando Ti volevo salutarti Ti volevo chiedere una cosa Eh sì Ti sei arrabbiato Che papà che sei Non ti dico più di niente Oh, oh Sto aspettando Che stai aspettando? Devo mangiare Che devo fare? Eh, fammi andare a mangiare Ho capito Cazzo Ma che devo fare? Ah, facciamo la corsetta Una chiave La fanculo Ah, chiave botola Ecco, come c'era Cos'è? Ah, aiuto Non ho preso la chiave Devo botola Hai capito male Mi capito molto male Ok Qui c'è tanta cosa da scoprire Io tanto avessi male Per cento per cento Cento uno per cento Cento due per cento Troppo guadagnato scuro Ma Beh, non devi fermarti a guardare le cose adesso Devi raccogliere soltanto Bravo Sono contento per te Ma io adesso Dovrei andare Nella botola Perché se no Non so dove andare Mi soggetto al volo Instant Dai, dai, dai Apri sta cazzo di botola Buttati tu Ciao Ma 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 Fango la mamma Lasciami andare Ce l'avevi la torcia Figlio di Troia Ce l'avevi la torcia Ok Siamo? Dove siamo? Niente 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 Eh Cosa? Cosa? Chi ha detto le parolacce? Non si dicono le parolacce No Non mi dite queste cose Non mi dite che mi avete esplorato davvero una cosa Eh Dai Scemo Un punto di salvataggio Salviamo Subito Mappa casa principale Vai Ah A proposito Ma la mappa Come si mette? Cos'è questo? Bruttissimo La mappa Come si mette? Ci deve essere Una funzione Per la mappa Eh Scappa dalla casa E la mia missione Che Ecco L'orologio mi fa vedere Quanta vita ho Quindi mi dice Che un colpo muoio Bellissimo Ho bisogno di un po' Di quella pozzoncina curativa E quella Buona Che non ho ovviamente Però la mappa La mappa Freccia 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 Niente Tasto 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 Niente 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 Non ho idea di come si metta La mappa Vabbè Bu Non ho proprio idea di come si possa mettere la mappa Vabbè Quasi Non lo userò Sono troppo proprio per usare una mappa Ho scritto qualcosa Ah si può aprire E dentro c'è un grimaldello O grimardello Come lo chiamano qui Vediamo un po' Grima Dov'è? Grimaldello Quindi avevo detto bene L'hai sbloccato Con cosa Con il grimaldello? Ah no Questa è la porta Ah C'era un teletto Non lo ricordo Dov'era Dov'era? Non me lo ricordo Leggiriamo Con select Che sarebbe share Ah no Ok Giusto La playstation ha questo pulsante qui Che Non lo considero mai Grazie mille ragazzi Grazie mille Allora Cucina Io dove sono? Non me lo indica? Cioè il telefono Ah no Eccomi là Vabbè Se non cerco io Allora Sento il telefono Che squilla Non mi ricordo Dove il telefono Non mi ricordo Dove il telefono Qua Non me lo ricordo Proprio dov'è Lato sinistro Lo sento Ah forse Lato sinistro Sono arrivato Ah eccolo Wait Pronto Hai fatto bene Zoi Giusto Che cazzo sono Queste persone Passito e ascolta Se vuoi rimanere in vita Vattene via da quella casa Puoi uscire dal salone D'ingresso Va bene Oh E quello che hai Al bolso è un codex Attento E non perderlo E quella che ho il polso E la mano di qualcun altro Evidentemente Ma vanno riattaccata Con la spillatrice Cioè i medici Impazzirebbero Se si potesse fare queste cose Direi che il prossimo Posto da esplorare Ok Chi è che Eh io sento qualcuno Che sbatte Che apre Boh Questo Fammelo esaminare È la faccia Di qualcuno Che non ha più una faccia Non c'è alcuna serratura Giusto Giusto Qua devo inserire qualcosa Una moneta No Niente da fare Così non va Foto Un senso di arroganza Tu indici Lucas Febbraio 2013 Vaffanculo Ti giro tutte le foto Chi è Già che Ma per i 35 secondi No Non ho detto che ti giro la foto Vaffanculo Devi morir Cipositate Vaffanculo Di nuovo sto cosino Con la testa Ma che devo fare questo Perché è il secondo Già che trovo Mi sa tanto Di Mr. Egg Posso prenderlo In qualche modo No Perché mi sa tanto Di collezionare Tutti Questo coso Vabbè Forse me lo sto Immaginando io Allora direi La prossima zona da controllare È questa Qui Non proprio questa è qui Ora Ora Cioè ce l'ho in mente Dove Però Diciamo che a parole Non sono bravissimo Aspettati Chi ce l'hai? Apri Sei pazzo? Sei scemo? Devi aiutarmi Ah no Che Stia fermo Dove Dunque Lei abita qui signore Cioè voglio dire È casa sua Cosa? Io No No D'accordo Ci hanno segnalato Alcune persone scomparse Di recente Mi ascolti Mi faccia uscire di qui Si calmi La prego A dirgli che te hanno rapito Mi ha sentito Ci sono dei pazzi In questa casa Che vogliono uccidermi Va bene Ma mi permetta di dirglielo Neanche lei Mi sembra che abbia Tutte le rotelle Al loro posto Dice la vede Allora Come ho detto Indaghiamo su persone scomparse E non potrei escludere Un tipo sconosciuto come lei Non c'entri nulla Ma portami in caserma allora Cosa vuole sapere? Perfetto Iniziamo a ragionare Ok Incontriamoci nel garage Continueremo lì Aspetti Mi serve la sua arma Ha davvero perso le rotelle Per strada Senta Agente Viceceriffo Scusa Come mi sono permesso Viceceriffo Mi vuole condannare Vuole salvare un innocente E tu gli dai veramente la pistola? No Contellino del cazzo Ok ok Ci sta Lo prenda Non posso darle altro Va bene no Va benissimo il coltellino Adesso Ci posso aprire Lo scotch Che me ne faccio Un altro paio di cose Che te ne fai? Non la fa il guru Taglio la casa Munizione pistola Visto? Ti taglio la casa Ti taglio tutto Ti faccio vedere Io che ci faccio Con un coltello Altro che per gris No Ah devo fare Ah Devevo fare A Devevo fare Atenzione Ora sono arrimati Oh Un pirro Un nemo di Immediatamente Prima mi spieghi Che fa qui da solo Nel cuore della notte Io Lei invece è il mio lavoro Perché non mi racconta tutto Mi risponda Non crederà alle mie parole Provi Ah Mi sa che è mo' questo muore Beh bella 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 Scusa posso approfittare Perfetto Ho bisogno di una cura Se non sono fregato Se non trovo una cura immediata Sono fregato Ah Una pistola Beh meglio di una cura Sì 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 No Guarda lo com'è Eh no Porca Eva Cioè muove la testa così Ah posso continuare Non sono molto ancora Oh 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 Cambia arma Ok Non provate bene Coltella 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 Eh le ginocchiate Devo fare Un certo Il mio guardio Ma il ginocchiata Me la deve dare Ma non muore Ciao papà Eh sono morto Sono morto di nuovo Allora non devi parlare Con il poliziotto Dobbiamo cercare qualcosa No 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 Va bene Ok non posso schifarlo Allora adesso che lui viene Dicito Io giro un po' Cerco qualcosa Fammi muore Fammi muore Fammi muore Fammi muore Fammi muore Allora io avevo visto Qualcos'altro Che era della macchina La voglia provare E che cosa devo fare Devo investire Ho preso qualcos'altro Ho visto cosa No ma tu con tutta la camera Sì Mettiamo il moto e ce ne andiamo No ma tu con tutta la camera Beh così è molto meglio Ce lo lascio qua Non so dove sia Come cazzo hai fatto a trovarti qui Scusa Eri sotto la morte Come faccio a uscire Come cazzo faccio a uscire Ma che devo fare Con te che mi guardo Oh oh No Ah sì 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 Ho capito Vai vai Accendi No 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 Cazzo Ma fanculo Io sono ancora vivo E tu? Ma come si esce da sta macchina In tutto questo? Sì 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 è ancora vivo Però Meno vivo di me Sicuramente Guarda che nervosa Che mi fa venire Sto scemo Eh no però Come si apre Come si scappa Come si va via Oh ragazzo Guarda cosa ha combinato Bastardo Ma te ne vai a fanculo Dall'altra parte Oh grazie Rimani morto Per favore Cioè per favore Vattene a fanculo Scusa Posso infierirlo? No 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 Che prima L'ultima volta che ho infierito È successo il bordello Cosa c'è? Oh soluzione medica Ottimo Però ancora un sacco di vita Mi pare Sì tantissima È bordo la vita Forse bisogna usarla Però non lo so Non mi sento molto Sicuro di questa scelta Allora tu rimani qui morto Per favore Vicino al cartello Con lo Uh posso salire Posso salire Non posso salire Perché non posso salire? Allora posso salire Oh Adesso ho la tua attenzione Tra poco ne vedrai Inizio Cazzo Finito? Ci stai benissimo Dimmi che è finito Ok Posso risalire di nuovo Stavolta Per davvero Non si sa mai Fammi mettere la pistola Ci sono 300 componenti Uh il pezzo Da prendere Quello che mi serviva Per aprire l'altra porta Ottimo Eh Che devo fare Dovevo mettere la testa in giù Ma forse Ah forse lo so Ok Forse è il caso Di curarmi Dai non fare più il tirchio Cazzo Smeccula Va bene Basta fare il tirchio Slaviamoci le mani E se riappro qua? Ho fatto una stronzata E se richiudo qua? Non posso richiudere Vabbè Volevo controllare Che fosse molto morto Certo non dargli un aiuto Per ammazzarmi peggio Direi che apriamo questa porta E chiudiamola là Dopo quello che succederà La barba c'è ancora È vero La barba ancora c'è là Dopo tutto il bordello Dai E mo? Ah ok Devo sempre spingere io Le porte Ah Dobbiamo raggiungere Il prossimo punto di salvataggio Se no non posso Ancora questi cosi Guarda Sparami Sparami Ve l'ho detto Questi sono dei collezionabili Sono sicuro Ne ho visto un altro Ne ho visto un altro qui Cerco di prenderne più che posso E ne ho visto un altro Al piano di sotto No no al piano di sotto Di troppo l'altra porta Quindi andiamo a prendere anche quello Eccolo qua E qui c'è il punto di salvataggio Ok Allora Direi di salvare adesso E di chiudere questa live Ragazzi questo video giunge al termine Io spero vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un like Un commento E se ancora non l'avete fatto E intanto mi prendo il videocchetto Ad iscrivervi al canale Ci vediamo come sempre Nel prossimo video Domani Ciao a tutti